Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Sono mancata per un po', ma come già vi dissi sarei stata molto più presente su Snapchat piuttosto che YouTube, anche perché è più veloce e diretto. Questo perché sono stata un po' bloccata con la sessione estiva degli esami universitari. Per lo stesso motivo ho ritardato col video del WonderCon, lo so, e mi scuso veramente un sacco per questo. Ma sono in vacanza, quindi ricomincerò costantemente ad aggiornare il mio canale con nuovi video. Che più... dai, no, niente, basta, non vi riempio più di chiacchiere, vi lascio il video del WonderCon dato che state aspettando proprio quello. Buona visione, mi raccomando, se vi piace, spero di sì, lasciate un bel pollice lì in su, condividete e se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi, mi raccomando. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.